Il grande caldo fa soffrire gli aretini, ma c'è un rovescio della medaglia dal punto di vista ambientale, economico ed agricolo. Il caldo infatti è un tocca sana per le vigne. C'è fiducia in col diretti Arezzo? Questo caldo è accolto con gioia nelle vigne, dice Mario Rossi, il direttore, dove le alte temperature fanno migliorare la qualità delle uve e sono la premessa di un'ottima vendemmia dopo la pioggia primaverile e la messa invece in pericolo dall'umidità delle settimane scorse. In questa fase, continua Rossi, l'innalzamento della colonnina di Mercurio garantisce la sanità dei grappoli, messa invece in pericolo dall'umidità delle settimane scorse, anche se occorrerà aspettare le prossime settimane per una corretta valutazione. Le condizioni sono al momento positive per il raccolto. Se non ci saranno sorprese, la partenza della vendemmia è prevista per settembre e ottobre con la raccolta delle grandi uve rosse autottone. Molto dipenderà dall'andamento climatico in prossimità della raccolta delle diverse varietà, ma è probabile che anche quest'anno si riproporrà la tradizionale sfida con la Francia per il primato qualitativo, ma la campagna retina non ha nulla da invidiare a quella francese. Il clima nelle campagne è importante anche per la grande varietà di frutta e raccolta in questo momento con il caldo che ne esalta le specifiche proprietà, ma ne aumenta anche i consumi. Si stima che nei primi dieci giorni di luglio gli acquisti di frutta e verdura sono risultati in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo del mese precedente.